cosa si prova a doppiare john snow è una bella emozione personaggio molto bello molto importante determinante nella saga molto più di daenerys e no scusa non è vero ecco passa la parola a me e allora cosa si prova a doppiare daenerys beh sono molto contenta perché comunque è una regina sta diventando una donna sempre più imponente importante anche il modo di recitare cambiato drasticamente e niente penso siamo stati fortunati tutti e due che dici ci è andata bene la citazione che mi è uscita meglio sicuramente dracaris è anche un'arma potentissima e la scena che mi è piaciuta di più oltre alle scene con sergio ora che comunque c'è questo amore da parte sua che traspare in ogni situazione sicuramente è quella che abbiamo fatto insieme quando c'è stato l'incontro di appunto di daenerys con john quella è quella più bella quella mi è piaciuta sì a me è piaciuta quella ovviamente è piaciuta anche quella in cui ho salutato i grit e la citazione che mi chiedono tutti è l'inverno sta arrivando anche se io l'ho detta una sola volta e quindi non capisco perché me la chiedono tutti perché è un po la frase calda della serie grazie